Oggi quello che andremo a fare è iniziare a parlare di React e faremo tre ore oggi appunto su React. Giovedì come immaginate non ci sarà laboratorio e quindi questo ci dà sei ore di lezione per introdurre React prima che poi voi possiate metterci mano e sperimentare. Quindi abbiamo il tempo di iniziare le cose principali con calma, con relativa calma. Partiamo dalla frase che c'è scritta qui. Cosa dice questa frase qua? Non introduzione React, quella è facile. Cosa succede se vi dico che tutto quello che sapete è sbagliato? Beh non proprio tutto quello che sapete è sbagliato, però ci sono alcune cose che non sono necessariamente sbagliate ma sono diverse, che funzionano in maniera diversa in React, soprattutto rispetto a JavaScript che abbiamo visto, che avete visto nelle scorse due settimane. Quindi cose come la manipolazione diretta del DOM. Come per esempio? Un metodo per manipolare direttamente il DOM? Appendchild. Le conoscete, le sapete usare e adesso potete anche dimenticarli. Perché React gestisce le cose in maniera diversa. Perché React? E perché andiamo a introdurre una libreria JavaScript e non continuiamo a manipolare il DOM come prima? React ci dà una serie di strumenti e astrazioni che ci permettono di fare le cose più velocemente e anche in maniera più performante, in molti casi, rispetto a scrivere direttamente, e manipolare direttamente il DOM e noi useremo la versione 18.2 che è stata rilasciata a giugno del 2022 ma è l'ultima versione stabile che esiste. E' una, tutt'oggi, React una delle librerie più popolari per il front-end che, come vi dicevo, è quella che ci porteremo avanti fino alla fine del corso. Da ora in poi lavoreremo essenzialmente su React. E tutte le ore che abbiamo fatto in precedenza, tutti gli argomenti che abbiamo visto in precedenza, HTML, CSS, JavaScript come linguaggio di programmazione, e Express, questi continuano a valere come base su cui adesso andiamo a costruire e su cui React adesso, che React userà a sua volta implicitamente in molti casi. Quindi noi non scriveremo più codice HTML ma scriveremo codice in React che poi sarà per forza di cose trasformate in codice HTML normale dal browser. Noi scriveremo JavaScript secondo React che poi verrà trasformato nel JavaScript normale di manipolazione del DOM e quant'altro che abbiamo visto finora. Quindi tutto quello che abbiamo visto finora, molte delle cose che abbiamo visto finora verranno gestite da React automaticamente o quasi automaticamente. Perché una libreria come React? Di nuovo, perché da una parte ci semplifica l'ambiente del browser, per esempio fornendo metodi DOM che sono uniformi e con una gerarchia più esplicita. Ci permette anche di definire dei componenti, degli elementi nella pagina che sono a un livello un po' più alto rispetto a quelli in HTML e ha un processamento degli eventi e degli aggiornamenti di quello che succede nella pagina automatico. Ovviamente nascondendo alcuni dettagli ma gestendoli in maniera automatica. Ci sono anche metodi di sviluppo che sono semplificati in parte con React una volta che uno capisce come farli e come gestirli. per esempio attraverso una gestione ben definita dello stato di un oggetto all'interno dell'applicazione. E vabbè, quali sono le risorse principali? React ha un sito, ha una documentazione che è stata rifatta qualche anno fa, che è questa che vedete nelle slide e quindi ha sia una documentazione di reference, sia una documentazione di tutorial e quant'altro che possono essere utili. Come vi dicevo già alla primissima lezione ci servirà a un certo punto uno strumento per il browser. Quindi il development tool, non quello normale inserito nel browser che ci permette di ispezionare HTML, CSS e JavaScript, ma uno dedicato a React che si chiama React Developer Browser che è disponibile sia per Firefox che per Chrome, che appunto ci permette di visualizzare il codice React che viene in un certo senso poi interpretato in HTML, CSS e JavaScript normale dal browser. Quindi prima che venga interpretato in quel modo. Quindi ci da un livello di astrazione, di controllo e di visibilità in più rispetto allo strumento da sviluppatori che è inserito nel browser. Quindi questo scegliete se per Firefox o per Chrome, ma se non l'avete ancora installato è un qualcosa da installare. E partiamo da alcuni principi di progettazione di React. Anche per differenza rispetto a quello che abbiamo visto finora. React ha un approccio dichiarativo. Questo vuol dire che noi sviluppatori non andremo mai a manipolare direttamente il DOM. Non andremo mai a scrivere qualcosa come append child. Ma diremo a React questa è la pagina che vogliamo vedere. Buon lavoro. E React si preoccuperà di manipolare il DOM quando servirà. In questo approccio dichiarativo in maniera simile non definiamo l'ordine delle operazioni. Di nuovo diciamo a React questa è la pagina. Questi sono gli elementi. Questi sono le informazioni. Mostrala. Gestiscila. Quindi deleghiamo molte operazioni di basso livello a React. L'unica cosa che davvero dovremmo fare è definire come ogni parte della pagina deve renderizzarsi e quando in alcuni casi deve renderizzarsi. E poi si preoccuperà a React di fare tutto. Questi vari elementi della pagina in React si chiamano componenti e si definiscono come funzioni JavaScript. Quindi ha un approccio funzionale. React usa una programmazione funzionale. E ogni elemento della pagina in React, ogni frammento della pagina è quindi una funzione che ha due possibili proprietà. Uno è lo stato, di cui dedicheremo una lezione intera su quello. E altre sono delle props, che sono appunto proprietà che si possono passare da un componente all'altro. Per esempio visualizzarne informazioni. Props sta per proprietà, ma in genere si chiamano props. E ogni funzione, di nuovo dato che uso un approccio funzionale, ogni funzione dovrebbe essere impotente e immutabile. Quindi ogni rendering di quella funzione, di quel componente, di quella parte di pagina, il risultato dovrebbe essere sempre lo stesso. Inoltre queste props che vengono passate da un componente all'altro, da una parte all'altra pagina, sono immutabili, quindi si possono solo leggere. Una volta che vengono passate, tutti quelli che usano queste props le leggo, non possono più modificarle. E quindi le funzioni dovrebbero essere, sono, React si aspetta, funzioni che siano pure. Quindi devo renderizzare un componente e quello che devo fare. Non posso avere side effects che siano diversi dal renderizzare il componente, dal visualizzare quello che ci serve. Un'applicazione React è fatta quindi di questi componenti. Per ora possiamo immaginarci componenti come una navbar, come un bottone, come elementi della pagina, più o meno complessi, più o meno grandi. E l'applicazione React è interamente rirenderizzata ogni volta che lo stato di un componente cambia e ogni volta che una proprietà viene passata nuova, quindi cambia anche una proprietà. E ogni componente viene quindi ricostruito da zero, sia se c'è una piccolissima variazione, invece di esserci scritto uno o due, sia se c'è una modifica differente in contenuti, in colore, in dimensioni, in quant'altro. Ok? Quindi React si basa su queste idee di componenti che vengono rirenderizzati da zero ogni singola volta che viene fatto un piccolo cambiamento o un grande cambiamento. Questo ovviamente porta alla domanda che c'è in slide, che è le performance. Se ho una pagina con 10.000 componenti, ho un'applicazione con 10.000 componenti, ho una pagina con centinaia di componenti e devo rirenderizzarli tutti e cento ogni volta che c'è un piccolo cambiamento, questo è terribile per performance. È come se tutte le volte ricaricassi la pagina. Anche se da domanda 1 diventa domanda 2 e tutto il resto rimane uguale. Quindi questo ha ovviamente raccontato così problemi di performance. Se tutte le volte noi andiamo a manipolare il DOM ricreando tutto da zero, perché tutto questo vi ricordo che è fatto in JavaScript, quindi noi andiamo a scrivere JavaScript che poi crea alla fine dell'HTML nel browser. Perché di nuovo il browser sempre capisce tre linguaggi, HTML, CSS e JavaScript. Quindi tutto quello che noi scriviamo che non è HTML, CSS e JavaScript base viene poi standard, viene poi trasformato in quell'HTML, CSS e JavaScript. Quindi se noi scriviamo in realtà applicazioni web in JavaScript, interamente in JavaScript, il browser dovrà poi renderizzarli in HTML e quindi questo re-rendering vuol dire che viene ricreato tramite manipolazione del DOM la pagina interamente. Questo è potenzialmente terribile come performance e React infatti non fa così, o meglio rirenderizza tutto, tutte le volte come vi dicevo, ma dato che le manipolazioni del DOM sono costose da questo punto di vista, se io cambio numero devo rirenderizzare l'intera pagina, devo cambiare il DOM dell'intera pagina. Questo è ovviamente un qualcosa di costoso in termini di performance. React e librerie simili a React implementano un virtual DOM. Quindi cosa è il virtual DOM? Il virtual DOM è un secondo DOM, un layer che sta sopra il DOM dell'originale, quello dei browser, e nel caso di React è una struttura dati interna, in memoria, ottimizzata, proprio per avere aggiornamenti molto molto veloci. Quindi noi lavorando con DOM, con React, come dicevo prima, non andremo a manipolare il DOM direttamente, non andremo a scrivere a penchild, non andremo a fare quel tipo di operazioni, un po' perché React è dichiarativo e un po' perché in realtà noi andremo a lavorare col virtual DOM. E poi sarà React che a un certo punto trasformerà, passerà le informazioni al DOM vero e proprio della pagina. Questo perché appunto il virtual DOM è ottimizzato per questi cambiamenti veloci, rapidi, che React prevede, quindi questa rirenderizzazione tutte le volte. Inoltre il virtual DOM ci dà alcuni vantaggi nel correggere alcune anomalie e asimmetrie del DOM, perché il DOM si è evoluto negli anni, invece il virtual DOM è stato creato da un certo punto in poi, quindi è più coerente al suo interno, i metodi sono più coerenti al suo interno. Gestisce il proprio insieme di eventi sintetici, quindi l'evento di click è un evento sintetico gestito a livello di virtual DOM che poi viene ovviamente trasformato nell'evento di click del DOM vero e proprio. E come funziona la modifica del DOM una volta che uno ha un virtual DOM modificato? dopo che c'è una rirenderizzazione di ogni componente, React va a calcolare la differenza tra il DOM originale visualizzato nella pagina e le nuove modifiche e il nuovo DOM virtuale che ha a sua disposizione. e solo le modifiche effettuate e le differenze a quel punto vengono in maniera selettiva trasferite al DOM del browser e in tutto insieme, non una alla volta necessariamente. Quindi anche se l'applicazione React rirenderizza interamente i suoi componenti, ma va a cambiare un piccolo, per esempio un numero dentro un paragrafo, solo quel cambiamento nel paragrafo viene poi trasferito a un certo punto al DOM, vero e proprio del browser. Quindi quello che succede è simile a quello che hai raccontato, che c'è in questa slide, in questa figura. Noi lavoriamo nel virtual DOM, quindi il virtual DOM ha comunque una rappresentazione del DOM. C'è un cambiamento in questo componente, indicato in rosso, e questo cambiamento in realtà influisce anche il componente collegato, il componente figlio, a sua volta, e a questo punto React rirenderizza tutto. Ma il cambiamento è solo in questa fase, in questi due nodi. Quello sotto è quello che capita in ogni istante nel DOM del browser. Quindi c'è un cambiamento in questo nodo, ma qui non capita niente. A questo punto questo cambiamento si propaga anche nel figlio, e anche qui non cambia niente. Al terzo livello, in fase di rirendering, il virtual DOM viene trasferito al browser DOM, ma viene cambiato solo i due nodi indicati in rosso, quindi il resto del DOM rimane immutato. Quindi nonostante qui ci sia una rirenderizzazione di tutto, in realtà quello che poi capita è che dato che cambiano solo due nodi, solo questi due nodi vengono trasferiti al DOM. Questo ci permette di avere e in batch, quindi non necessariamente una alla volta. Questo ci permette di migliorare le performance rispetto a rirenderizzare tutto tutte le volte, nel DOM vero e proprio. Ma ovviamente bisogna fare le cose nel modo che React vuole che le cose vengano fatte, perché sennò questo meccanismo inizia a non funzionare. Quindi ci sono una serie di principi, ci sono una serie di assunzioni che impareremo e che dovremo utilizzare per lavorare con React, che sono anche in parte diversi da quelli a cui siamo abituati finora o con la programmazione normale, proprio anche per questo aspetto di programmazione dichiarativa che React ha, e per far sì che tutti questi meccanismi funzionino. Quindi che il DOM venga aggiornato solo, diciamo così, quando è veramente necessario che venga aggiornato e non quando non è necessario o troppo eccessivamente o troppo poco. Quindi c'è un cambiamento, ma noi nel browser non lo vediamo perché il DOM non viene aggiornato appropriatamente. E come vi dicevo ci sono alcune assunzioni, alcune cose da fare per far sì che questo meccanismo funzioni e funzioni bene. Quindi bisogna in un certo senso abbracciare il modo di fare di React. Questo è quello che dicevo prima sugli eventi sintetici, React implementa il suo sistema di evento che viene mappato sugli eventi che avete visto per manipolare il DOM e di nuovo permette una divisione tra gli eventi del DOM e gli eventi di React in maniera più uniforme e gli permette a React di gestirli anche in maniera corretta. Come se volessimo fare un'applicazione React minimale partendo da zero, una specie di Hello World, cosa faremmo? Noi scriveremmo una cosa tipo questa. Quindi scriveremmo una pagina JavaScript in cui andremo a prendere un id, in questo caso una root, da una pagina HTML. Quindi dobbiamo avere una pagina HTML, una pagina HTML che sarà vuota perché noi andremo a riempirla tutte le volte con le modifiche che faremo in React. In questa pagina HTML però ci sarà almeno un tag che è root in questo caso, che è quello che conterrà l'intera pagina HTML nel body. Quindi andiamo a prendere il contenitore in cui l'applicazione React andrà a girare e questo è l'unico elemento che viene preso con un metodo di manipolazione del DOM perché viene recuperato l'elemento in cui andrà a inserire l'applicazione React. A quel punto React chiede che vengano fatte due cose. Uno, che questo contenitore venga ufficialmente inizializzato come radice dell'applicazione React. Quindi tutto quello che succederà in React andrà inserito in quel contenitore. E all'interno di quel contenitore avremo due cose da fare. Uno è quello di renderizzare l'applicazione React, quindi da questo createNode ci dà un metodo che si chiama render e quindi possiamo renderizzare l'applicazione React. e l'applicazione React in questo caso è semplicemente l'Hello World. Quindi un header di primo livello con scritto Hello World. Il render renderizza l'applicazione React, in questo caso l'unica riga che abbiamo dentro il container, dentro il DOM del container, anche se noi qui non stiamo andando a manipolare di nuovo direttamente il DOM. E questo, tra parentesi, si chiama elemento. Questo sembra HTML, ma non lo è. Questo è un elemento React, scritto in una sintassi che ricorda quella di HTML che è così più facile da gestire e da lavorare. Questa sintassi si chiama JSX e vedete molto simile all'HTML. Quindi ci sono tag, c'h1, ci sono tutti i tag HTML che esistono per natura in React. Quindi qualunque tag HTML ha la sua controparte come elemento, componente, React. E ovviamente, come vedete, questa sintassi è molto più facile da scrivere rispetto al scrivere JavaScript a mano corrispondente. Per cui, in React, senza la sintassi JSX, per scrivere un div che abbia un id test, dovremmo scrivere react.dom.div, aperta parentesi, aperta graffa, id, due punti, test, chiusa graffa. E se questo div al suo interno ha degli altri componenti, virgola, react.dom.h1, aperta parentesi, stato ed eventuale contenuto, virgola, eccetera. Quindi una lunga lista scritta in JavaScript. Quindi noi andremo sempre, la maggior parte delle persone, gli sviluppatori React scrivono codice in JSX, e non in JavaScript normale. Questo codice JSX, poi ovviamente, dato che non è JavaScript standard, verrà poi compilato, tradotto, in questa sintassi JavaScript, perché così il browser può renderizzarle e comportarsi correttamente. Quindi noi useremo questa sintassi che, ripeto, assomiglia all'HTML, ma non è HTML. Quindi anche questo div, h1, p e quant'altro, sono gli elementi che corrispondono agli stessi elementi in HTML, ma non sono quelli HTML, sono quelli che operano sul virtual DOM. In React, vi dicevo prima che ogni elemento della pagina ha una sua funzione, l'ho chiamato i componenti, perché questo è il nome vero che usa anche React. Ogni cosa in una pagina, React è un componente. Anche questi, h1, div, p, eccetera, sono definiti come componenti. I componenti possono essere innestati uno dentro l'altro, esattamente come i tag HTML. e questo create root render, che abbiamo visto prima, costruisce un componente root base e appunto lo collega, lo attacca, al container del DOM della pagina HTML che conterrà l'intera applicazione React. Quindi qui ci sono, quanti componenti ci sono in questa figura, secondo voi? Quanti ce ne sono? 8 o 9? Contiamoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono di più? Sì, no, quello, diciamo, quelli quadrati, no, questo, no, questa è la pagina intera, questo è un titolo. Quindi questa è la pagina intera, la prima riga qui è la pagina intera. In realtà, qui ci sono 9 elementi, non 9 componenti. Io vi ho detto qui che questo si chiama elemento, giusto? Qui ci sono 9 elementi. Per quanto ne possiamo sapere, qui ci saranno 6 componenti. Per quanto ne possiamo sapere. Perché vi dico che ci sono 6 componenti potenzialmente, o 5? 6 componenti e 9 elementi, invece. Qual è la differenza tra i due? Perché se tutta una pagina è un componente, perché noi renderizziamo un elemento? E non un componente. Qui ci sono 9 elementi, abbiamo detto, 8, 8 elementi. Ma 6 componenti, da quello che possiamo vedere da questa immagine. Perché 6 componenti? Che fine hanno fatto gli altri due? Che cos'è che si ripete in questa immagine? C'è qualcosa che si ripete? Blog post. Quindi ci sono 9 elementi, 9 istanze di componenti, 8, 8 istanze di componenti, non so perché ce l'ho con 9, 8 istanze di componenti. Ma dato che blog post appare 3 volte, quello è lo stesso componente che si renderizza 3 volte diverso, che è istanziato 3 volte. Mentre possiamo immaginare che quelli senza un nome siano componenti, elementi, siano istanze di componenti diversi. Potrebbero anche non essere. Ma dato che non abbiamo indicazioni in questa immagine, possiamo fare questa assunzione. Ma sicuramente blog post 1, 2 e blog post con immagine sono lo stesso componente che viene istanziato con contenuto diverso 3 volte. Quindi abbiamo 8 elementi e 6 componenti che sono poi istanziati diverse volte, alcune una volta solo e altre, come nel caso del blog post, 3. Quindi noi renderizziamo un elemento. Un elemento è un'istanza di componente. Quindi il componente è quello che decide come è fatto H1, in questo caso. E questo è un componente di default di React, come vi dicevo, che si mappa sull'elemento H1 del browser, quello HTML normale. E che cosa c'è dentro H1? In questo caso è lo Word, invece è un qualcosa che passiamo noi nell'istanza del componente, quando andiamo a utilizzarlo, e quindi nell'elemento di React. Quindi spesso nel parlare si usano componente ed elemento in maniera interscambiabile, ma elemento è il componente istanziato e il componente invece è la definizione del componente. E ovviamente React ha dei componenti già fatti, H1 e quant'altro, ma anche dei componenti che si possono creare a mano da noi e poi utilizzare al bisogno. Come si definiscono un componente? Un componente è una funzione, quindi si definisce come una funzione. È una funzione che deve avere un return, e spesso ha solo un return, non ha altri elementi dentro della funzione. E questo return è altri elementi React che devono essere renderizzati, scritti in JSX in questo caso. Quindi se noi abbiamo questo componente e vogliamo creare questo componente blog post excerpt, potremmo fare un return di un div con all'interno un H1 e un p, con un titolo e una descrizione specifica. E questi sono H1, p e div, sono componenti definiti da React, di nuovo che si mappano su quelli HTML, e noi qui andiamo a definire una loro istanza specifica con un titolo e una descrizione. Se volessimo passare anche alcune proprietà a questi componenti, possiamo passarlo come elemento, come parametro della funzione, e a quel punto all'interno del return, con questa sintassi, parentesi graffe, props, se è questo che abbiamo chiamato l'attributo, punto qualcos'altro, che sarà contenuto in quell'oggetto, andremo a renderizzare un qualcosa da queste props. Quindi questa funzione può ricevere alcune proprietà e noi possiamo poi utilizzare le proprietà al suo interno. Quindi questo è come si definisce un componente. Ovviamente qui dentro ci può essere scritto div, H1, p e quant'altro, oppure ci potrebbe essere blog post content. Quindi un componente custom potrebbe al suo interno renderizzare un altro componente custom. L'importante è che l'ultimo dei componenti, quindi renderizzati in catena, sia fatto con elementi che derivano da HTML, quindi div, p, H1 e quant'altro. Quindi elementi che React sappia renderizzare nel browser. Quindi io posso avere un componente blog, con dentro un componente blog post excerpt, con dentro un componente immagine, con dentro un componente di altro tipo. E l'importante è che l'ultimo di questi, alla fine, si renderizzi in termini di div, p, br, section e quant'altro che esiste all'interno di HTML. Quindi la versione React degli elementi HTML. Ci sono due tipi di componenti, concettualmente. Uno sono i componenti di tipo di presentazione, quindi quelli che generano i nodi del DOM da visualizzare sullo schermo e tipicamente non gestiscono lo stato dell'applicazione. Possono avere qualche stato interno, ma è solo per motivi di presentazione. Quindi cambio il colore, cambio qualche elemento di visualizzazione, cambio la dimensione e quant'altro. Quindi relativi unicamente o quasi unicamente alla presentazione. E poi ci sono dei componenti che vengono definiti come container che gestiscono lo stato, invece, di un gruppo di componenti figli. E questi componenti container potrebbero, per esempio, interagire con un back-end, con il nostro server in express per recuperare informazioni, da visualizzare nei componenti di tipo di presentazione. E poi, ovviamente, questi componenti container creano anche gli elementi per visualizzare le informazioni vere e proprie. Si scrivono sempre come dei componenti normali, come abbiamo visto prima. Hanno solo due funzioni levemente diverse. Uno è pensato più per visualizzare e basta, l'altro è pensato per gestire informazioni, per gestire lo stato di un componente. Come dicevo prima, ogni componente può gestire due diversi proprietà, due diversi oggetti. Uno sono le props, quindi le proprietà vere e proprie, che sono passate a un componente dal suo genitore. Queste props possono essere tipicamente di due tipi, o dei valori, stringhe, oggetti, numeri, quant'altro, per configurare come il componente deve comportarsi o deve visualizzarsi, oppure delle funzioni per accedere ai metodi del componente padre. Quindi, se noi passiamo una props da un componente all'altro, ed è questo un numero, un valore, una stringa, questo potrebbe essere renderizzato nel componente figlio. Se ne passiamo una funzione come props, questo è di nuovo stesse funzioni, stessi concetti che abbiamo visto in JavaScript, come linguaggio, dal componente possiamo così chiamare un metodo definito nel padre. Ma le props vengono sempre passate top-down. Quindi io non posso creare una prop a un certo punto e passarla, ma quella verrà passata top-down, non può tornare indietro una props, non può essere ripassata indietro, non può essere ritornata una props al padre, e sono in sola lettura. Quindi una volta l'abbiamo ricevuta, quella proprietà non può essere cambiata. Lo stato, invece, di cui, come vi dicevo, dedicheremo una lezione a sua parte, è un insieme di variabili che è locale al componente. Quindi è interna al componente. Può essere inizializzato con dei valori di default o con una props. è anche lui immutabile. In realtà il React viene permesso di mutare uno stato chiamando solo metodi specifici di React. Quindi non si può scrivere variabile uguale 5, dove è variabile lo stato all'interno di un componente, ma lo si può mutare solo con alcuni metodi specifici. e questa mutazione ha due, questo cambiamento ha due proprietà, una che è asincrona, è sempre asincrona, quindi ricordate le promise, e l'altro cambiamento è che un cambiamento aggiustato in un componente inizia il re-rendering del DOM virtuale. Quindi ogni volta che un componente cambia il suo stato, viene re-renderizzato e un trigger per re-renderizzare il DOM virtuale. E se io devo passare uno stato da un componente a un altro, lo posso solo passare come prop, perché lo stato vive all'interno di un componente. Ecco, React, di nuovo, questo lo riaffronteremo bene quando parleremo dello stato, ma React, dato che tutto viene passato dal top al down, quindi dai componenti padre e componenti figli, ha un data flow che è unidirezionale. Quindi un componente può o non può definire il suo stato, lo stato è passato poi alla vista, quindi a quello che viene visualizzato nello schermo, e nello schermo ci potrebbero essere dei bottoni quant'altro, quindi delle azioni possibili. Quindi queste azioni possono manipolare lo stato, o se le azioni vogliono cambiare la vista, devono manipolare lo stato, lo stato a sua volta genererà un re-rendering, che quindi cambierà la vista, e se voglio di nuovo fare delle azioni che riguardano la lista, la vista deve manipolare il suo stato con questa azione, e così via. Quindi il ciclo di funzionamento in React è sempre questo. Ho un componente, voglio cambiarlo, con qualche azione devo cambiare lo stato di quel componente. Se cambio lo stato di quel componente, avrò una nuova, potenzialmente, una nuova vista, e se vorrò cambiarla, fare delle azioni, posso farle, ma per vedere l'effetto di quell'azione, dovrò cambiare lo stato. Quindi immaginiamo di avere un bottone che premuto incremento un numero, 1, 2, 3, 4, 5, questo incremento, quindi ho un componente che è un bottone, che quando premuto azione incremento un numero, questo incremento il numero cambia lo stato, fa diventare lo stato da 1 a 2, questo cambiamento di stato genera un re-rendering del virtual DOM, e quindi riguarda una nuova vista, e se voglio cambiarlo di nuovo, avrò di nuovo il bottone per aumentare il numero, da 2 a 3, che cambierà uno stato, che cambierà la vista, e così via. Quindi l'unico modo per manipolare una vista, per cambiare la visualizzazione di un componente, è passare attraverso il cambiamento del suo stato, attraverso dei metodi specifici. Questo è un corollario di quel flusso che dice che uno stato è quindi sempre posseduto da un solo componente, e quindi modifica il componente dei suoi figli. Il cambiamento dello stato di un componente ovviamente non influenza gli stati degli altri componenti, né sopra di esso, né a fianco a esso, ma solo e esclusivamente dei suoi figli. E dato che il cambiamento dello stato di un componente influenza anche il rendering dei propri figli, quello che spesso viene fatto, e lo vedremo, e ci ragioneremo a un certo punto, è muovere lo stato più in alto possibile, o più in alto che sia necessario, nella catena dei componenti, in modo che questo stato sia condiviso tra tutti i componenti di cui ne hanno bisogno. Quindi spesso, non sempre, ma spesso avremo lo stato nel primissimo componente di React. Perché questo ci dà la possibilità di avere quello stato condivisibile con tutti i propri figli. Ed essendo il primo elemento, tutti avranno, ovviamente, accesso tramite le props a quello. Ok. Come facciamo un'applicazione React? Non la facciamo a mano partendo da un file HTML vuoto e da un file JavaScript vuoto. Ma quello che ci serve sono questi cinque passaggi essenziali. Uno è quello ovviamente di installare e importare la libreria di React, perché la andremo a utilizzare. Noi vogliamo usare JSX e questo è già compreso diciamo in React, non c'è bisogno di installare nient'altro. Avremo bisogno di un server web in modo da poter usare i moduli, in modo da fare gli import in JavaScript e quant'altro che è richiesto da React. e e anche avere magari qualche meccanismo che ci semplifichi lo sviluppo di questa applicazione. Per esempio quello che abbiamo visto con Nodemon, con Express, quindi un qualcosa che quando c'è un cambiamento magari faccia ripartire il server o si accorga del cambiamento e quant'altro. Come dicevo, questo non viene fatto a mano tipicamente facendo npm install, React, eccetera, ma viene fatto utilizzando qualche tool sempre nel mondo JavaScript e noi useremo questo Vite che è una libreria che fa le sue cose ma tra le altre cose permette anche di creare applicazioni React. Non è l'unica, è quella che però crea un'applicazione React più pulita possibile senza portarsi dietro altre cose, troppe altre cose del framework Vite di per sé. Esistono molti modi per creare un'applicazione React con questi tool, Vite è quello più semplice in un certo senso, che crea un'applicazione React più pulita senza troppi collegamenti con quello che fa Vite di per sé e ce ne sono altri come per esempio Next.js permette anche esso di creare un'applicazione React e quant'altro e se cercate su internet probabilmente troverete anche un Create React App CRA spesso menzionato questo era purtroppo era il metodo di default fornito da meta per creare un'app React ma è stato deprecato quindi esiste ancora ovviamente se trovate articoli di 3-4 anni fa vi diranno creato un'applicazione React con Create React App o CRA ma attualmente è deprecato e quindi la documentazione ufficiale di React non consiglia neanche più lo strumento ma consiglia strumenti alternativi come Vite quindi come si crea un'applicazione React si apre una cartella si scrive npm create Vite at latest il nome dell'applicazione React che volete applicare dal menu che appare si seleziona React e JavaScript si va dentro la cartella che si chiama come l'applicazione React che avete creato npm install 65 o più megabyte dopo tutto installato e si può a quel punto lanciare l'applicazione React con npm run dev e questa applicazione React sarà disponibile a localhost 5173 facciamolo io sono già nella cartella WIC 07 è una cartella qualunque ci serve una cartella padre perché l'applicazione React verrà creata a suo interno e vedete là in fondo si tutti ho un po' più di zoom quindi qui scriviamo npm create byte at latest e il nome dell'applicazione React che vogliamo creare per esempio my app giusto per fare una prova e a questo punto ci chiede che framework volete utilizzare proprio perché byte è un framework a sua volta che permette di gestirne molti e vanilla vuol dire javascript normale e qui ci sono una serie di framework se noi selezioniamo React a questo punto ci chiede in che linguaggio vogliamo scrivere codice React e noi selezioneremo javascript e a questo punto basta ha finito viene creata una cartella che si chiama come l'applicazione che abbiamo dato il nome in questo caso my app e andiamo a vedere cosa c'è un attimo in questa cartella magari un po' più grosso di allora in questa cartella c'è un package json che è simile al package json che abbiamo creato finora con express cont'altro contiene il nome del package contiene eventuali script che sono già esistenti e poi contiene esattamente come nel package json che abbiamo creato finora le dipendenze in questo caso React e React DOM ed eventuali dipendenze per lo sviluppo che vengono installate in questo caso cos'altro abbiamo? abbiamo un readme che è quasi vuoto dice solo è un template per iniziare a lavorare abbiamo poi un file di configurazione di byte che essenzialmente dice questo è da fare in React e poi abbiamo gli elementi che sono veramente relativi a React abbiamo un file index.html che è il singolo file.html che React passerà al browser che contiene quindi un elemento html in questo caso che sarà la root in cui l'intero programma l'intera applicazione React andrà poi a essere inserita quindi l'intera applicazione React sarà inserita qui dentro dentro questo div e tutto il resto rimarrà costante quindi se volete cambiare il titolo della pagina va fatto nella index dopo di che c'è una cartella public che ha solo il logo di byte e nella cartella src ci sono due file jsx quindi file React scritti con la sintassi jsx uno è il main che è quello che fa anche questo file non è praticamente da modificare quasi mai ed è quello che fa quello che vi ho fatto vedere prima è nelle slide quindi la versione minima di un'applicazione React quindi crea la root una volta che ha preso il div che ha id root dal dall'index html e poi usa il metodo render per renderizzare l'applicazione React tutta l'applicazione React e quindi in questo caso renderizza il componente app componente app che ha un suo file sempre jsx che è un unico componente in questo caso di default che ha un return come vi dicevo è una funzione non ha props ha un return e all'interno del return c'è un div con un link e poi un h1 che dice write pre-react e poi un altro div e tutti questi sono elementi React che derivano come dicevo dagli elementi e html notiamo subito un paio di cose per esempio class name questo immagine ha una classe css che è definita nel file app.css logo e file app.css e css normale niente di particolare e qui ovviamente non c'è scritto class ma c'è scritto class name perché questo è comunque javascript e quindi class è una parola riservata se vogliamo utilizzarla dobbiamo chiamarla class name in maniera analoga a quello che facevamo per la manipolazione del DOM e gli altri attributi vedete alt src href target e quant'altro rimangono identici a quelli che sono in html stessa cosa qui per class name e ecco notiamo anche questo questo segno di minore maggiore che c'è subito qui questo e si chiude con minore slash maggiore se noi lo togliessimo ovviamente è d'errore è normale che d'errore e l'errore è l'espressione gsx devono avere un elemento padre questo vale per ogni componente per ogni espressione gsx che si scrive in questo caso per come è fatto questa porzione di codice ci sono all'interno del componente tre elementi allo stesso livello c'è un div 4 c'è un div c'è un h1 c'è un altro div e c'è un p ma un componente un'espressione gsx ha bisogno di un solo componente padre qui ne abbiamo 4 e allora quello che si fa in react è utilizzare questa sintassi che definisce un componente react vuoto che quindi non verrà poi renderizzato in html verrà saltato ma permette così di avere un unico componente padre e che ne contiene altri questa è una cosa che faremo spesso ogni volta che un componente dovrà renderizzare più di un componente non avrà un componente padre predefinito in questo caso ci sono 4 elementi al suo interno ok quindi queste alcune cose questo è l'applicazione default che poi noi andremo ovviamente a cancellare e a questo punto dobbiamo fare npm install all'interno della cartella my app dobbiamo andare nella cartella my app e fare npm install quindi lui leggerà il package punto json e installa tutto quello che ha bisogno crea un package lock punto json esattamente come nel passato e scrivendo npm run dev e andando su sito all'indirizzo localhost 5173 vediamo la nostra applicazione react che è quella di default che abbiamo visto lì e questi sono link di log cliccando sui rispettivi siti questo è un bottone che schiacciandolo aumenta di numero e quant'altro quindi questa è la versione base per mostrare che react funziona come procediamo da qui procediamo svuotandola svuotando app lasciando tutto il resto identico praticamente e andando a inserire all'interno di app i componenti che vogliamo realizzare quindi per esempio se noi volessimo solo stampare hello world in un h1 come abbiamo visto nel nelle slide ci basta scrivere hello world in questo caso non ci serve quel componente vuoto perché abbiamo un solo padre che è l'h1 e di conseguenza anche tutti questi import ovviamente adesso non servono più e quant'altro notate che i file css vengono importati come fossero file javascript quindi import il nome del file css in questo caso di nuovo non abbiamo nessun nessun css ma il file esiste quindi se noi aggiorniamo se noi salviamo vediamo il nostro h1 hello world perché è centrato nella pagina perché ci sarà del css perché c'è del css c'è del css in index che dice per esempio che uno deve essere centrale che il body deve avere di tipo flex che l'h1 ha un certo font una certa altezza da alcune proprietà e poi c'è anche del css in app che definisce altre cose noi ovviamente entrambi questi css andremo poi a svuotarli perché non ci non ci interessano quindi se noi li svuotiamo interamente torniamo al css del browser standard perché ci sono due file css secondo voi ci sono due file css giusto c'è index css che viene caricato da main e c'è app.css che viene caricato da app veniva viene caricato da app punto gsx perché nei template in default ce ne sono due non uno solo o cinque uno per la pagina e uno per i componenti di un'intero in react i css si in genere crea un css diverso per ogni componente quindi in questo caso il componente main chiamiamolo così è la index quindi sono le regole css che si applicano a tutto quindi uno per la pagina uno per l'applicazione intera e poi ogni componente può non è obbligatorio ma può avere i propri css che personalizza solo gli elementi di quel componente in questo caso di nuovo per avere un qualcosa che sia modulare per cui se io ho un componente bottone immaginiamo che ho creato da zero e voglio fare del css se poi ho bisogno di usare quel componente bottone con quello stile in un'altra applicazione mi basterà spostare ecco i due file e avrò il css e il gsx associati a uno specifico componente da utilizzare in altre applicazioni ok le slide dicono esattamente quello che abbiamo appena detto ecco qui c'è un esempio sull'Hello World ma possiamo saltarlo e per passare all'esercizio vero e proprio esiste anche visto che lo useremo possiamo avere componenti esistenti H1 div eccetera possiamo avere componenti che creiamo noi ma possiamo anche installare qualcosa che porta con sé dei componenti dei componenti in questo caso di tipo presentazione quindi Bootstrap esiste una versione una libreria che si chiama React Bootstrap che fornisce come componenti React molti non tutti ma molti delle opzioni molte delle opzioni messe a disposizione da Bootstrap stesso quindi React Bootstrap fornisce alcune classi Bootstrap nel formato componente quindi per esempio da un componente che è container che è l'equivalente di div class container a un componente raw che è l'equivalente di div class raw a un componente col che verrà poi renderizzato in div class raw e così via quindi fornisce sotto forma di componenti già porzioni di Bootstrap quindi invece di scrivere div class name container portandosi dietro il CSS e il JavaScript di Bootstrap si può usare questa libreria che è un wrapper di Bootstrap quindi una libreria non fatta da Bootstrap ma è una libreria esterna che a sua volta fornisce dei componenti React che verranno poi da un certo punto trasformati nel codice HTML corrispondente usando Bootstrap quello che avete usato finora quindi se noi volessimo e lo faremo usare Bootstrap all'interno della nostra applicazione possiamo installare questa libreria npm install React Bootstrap che ha anche bisogno di installare Bootstrap quello vero e proprio quindi npm install bootstrap a questo punto possiamo installare tutti questi componenti se hanno la modalità con npm con npm e non più solo importando gli script e i file CSS nel file index HTML perché ci penserà poi React di linkare e di creare la pagina HTML finale quindi ci penserà React di mettere le varie cose al loro posto e quindi potremmo a quel punto utilizzare Bootstrap per fare le varie cose e per esempio i colori dei bottoni di Bootstrap si identificano come variant all'interno di questo React Bootstrap quindi variant primary è come scrivere btn btn-primary invece qua scriviamo btn-variant-primary e così via dove andremo dopo la pausa e nel resto del corso andremo a vedere subito dopo la pausa a parlare ancora sui componenti e sugli elementi e sulle props e poi nelle settimane prossime vedremo lo stato vedremo eventuali hooks che sono modi di per esempio manipolare lo stato ma non solo e andiamo avanti con gli eventi form il ciclo di vita di un'applicazione React che ci servirà per capire quando le cose vengono renderizzate e come forzare il rendering al bisogno e anche il router per avere un'applicazione che non è tutta un'unica pagina come quella che abbiamo finora ma che possa seppur ha un solo index HTML avere comportarsi come se fosse con più pagine quindi da qui in poi proseguiremo su quegli aspetti ci sono domande allora facciamo un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo con le altre slide e un esercizio più completo su React e poi riprendiamo un esercizio e poi riprendiamo